Non è tutto più bello? Il futuro è arrivato Video a 4k Tutto molto molto più bello I nostri amici americani dicono i video molto più crispy E in effetti l'ora Questo è veramente un periodo dell'anno molto curioso Perché esci alla mattina e ci sono 5 gradi C'è la gente che si metterebbe ancora al piumino E poi dopo metà giornata fa veramente caldo E ti viene voglia di levarti anche la pelle di dorsi Quindi non sai veramente come vestirti E' un po' da fare E' tribile E' un po' pazzo Andiamo se riesco a far paura alla via Aspettate Vero Oh mio 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 Che pegnone Che peremo Che abbiamo fatto anche questa volta Che peremo 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 Grazie a tutti.